Ho ho ho, buon Natale! Ok ragazzi, ci tenevo solo a farvi gli auguri di Natale, di buone feste, insomma di Capodanno, di Epifania, tutte le feste che vengono Ve lo faccio però prima di questa parte perché non ho avuto tempo di farvi un video apposto, volevo farvi un tumitel magari in cui vi facevo gli auguri Intanto rispondiamo un po' alle domande Però non sono riuscito a farlo per motivi più tecnici più che altro Perché ho un casino in mano sulla mia scrivania perché sto facendo una cosa che scoprirete a breve, in giro dei 3-4 giorni capirete perché i video appunto sono calati un po' in quest'ultimo periodo E anche perché adesso poi ricominceranno a bomba Faccio vedere appunto il casino che c'è sulla mia scrivania, cioè cubi di rubik, joypad, cavi ovunque, un casino, lì una ciabatta sulla scrivania Insomma, un casino totale Però comunque, visto che non riuscivo a farvi il video, volevo comunque farvi gli auguri E allora ho deciso di metterli prima di questa parte di avventura a Fento che è venuta un po' più breve, un po' più corta Perché c'è stato un imprevisto ma sarà molto divertente, vi consiglio di guardarla Inoltre ovviamente vi fanno gli auguri anche Zumpa, tutti gli adepti del canale che hanno partecipato ai video, tutti quanti E vi appunto vi auguriamo buone feste e gustatevi questa parte di avventura a Fento che sarà molto divertente Buono Ciao a tutti ragazzi, sono Tummi e benvenuti a questa nuova puntata di Pokémon Aventura a Fento Prima di andare avanti facciamo notare una cosa, la nuca di questo marinaio Di quest'uomo Ha una faccia, è Voldemort Cos'ha? Si gira? Girati, girati, girati Non si gira più adesso Dopo che l'ho detto non si gira più Si vergogna Eccolo Sei il professore del primo Harry Potter Sì, sì, Raptor Raptor, esatto Comunque Si va avanti Tu devi essere Dylan, giusto? Esattamente Si, sei tu Il mio nome è Capremo Caprone Capremo Capitano Remo Capremo Sono diretto ad Acquavalle Mi scrocchiamo un passaggio Alla Grande Valle Devi difenderlo Sei diventato il suo nuovo bodyguard Eh vabbè Ha scelto un bambino Da eventuali pericoli Tutti i niga potenti Tu hai Pokémon Abbiamo Di Maria Che pom Oh Che ca Random Da nave Come ci sono arrivato qui? Dylan Capremo Cos'è successo Dove ci troviamo? Un dirottamento Ci hanno drogato Siamo qui Parla a bassa voce Non siamo soli Ma c'è solo Ci avvicina In silenzio Ah via E ti risvegli All'acquavalle Entriamo nella casa Ma era tutto finto Era tutto un sogno Era inception Sai quelli che sognano Sì sì Eh Ne sono felici Questi sanno Questo già ti vende la droga Esatto E questo Sì Fare accoglienza Sono troppo Vaghi Vaghi Non si capisce come abbiamo fatto Ecco Qualcuno che ci darà spiegazioni Dylan che sollevo vederti Non ci ho capito Eh per noi sì Ma noi non abbiamo sognato Non ci capisco niente neanch'io Eh Teletrasporto Così Ma sì ma abbiamo Abra che l'ha fatto Ah eh può essere Sono stato accolto dalle persone Dentro questa casa Ma non so se ti hanno accolto però Eh Ma questa è acquavalle Sì Chiaramente questa è altavalle Acquavalle Sì Dove la palestra Una Oddio Ci sono i pokemon sulla spiaggia Ma Non dire Sulla battigia Sai perché le meduse Perché sai che le meduse si arenano Sulla battigia Attenzione Un nuovo luogo dove trovare i pokemon Supponiamo che tu sia il ragazzo di cui mi ha parlato Tanto se non ricordo male lui Usa i pokemon di tipo ghiaccio Eh Terro 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 Si chiama terro E allora ho un problema Facciamo terro E incuto terrore Ah è in pokemon terra Non avrei mai detto Niente ghiaccio Come si chiamano gli altri Acquo E fuoco si chiama fuoco Non voglio nemmeno saperlo Mi sto dilungando troppo Sarei qui per una sfida in palestra Io sono curati i pokemon Tanto ti hanno impalato con un Lui non è Non ha allenato di Maria E qui c'è il classico problema Ti danno fastidio quei massi Ah no Problema risolto Easy così E' sparito E' sparito Perché qui la gente appare E sparisce Però giustamente Per poter apprendere forza Devi avere la medaglia Cioè Ma chiaro Però la puoi insegnare già Perché comunque La mossa che togli 80 Non è niente male Ci sta è vero Ma è che assorbimento Tanto qua abbiamo Diego Costa Che fa il lavoro sporco Ma Se non ricordo male Qua c'è un pokemon infame Ma sono un po' alti livelli A quanto vedo A parte quello C'è un pokemon infame Se non ricordo male Ma non si che non alleniamo Però Andiamo a questa forza La forza La forza sta Jerome A Diego Costa Ma no O Pikachu Meglio botti in testa Perché fa tentennare Anche Jerome Stai buono Jerome Tanto ha una mossa Da azione Via subito Via la ebola Forza A schianto Però non ha Non ha L'efficacia Via schianto Dentro Forza tutta la vita Basta Dai il ferro Del ferro Lo diamo dopo Aspetta Boldore Mega assorbimento Che già gli togliamo Mega assorbimento E grazie Vedrai Vedrai compugno Rapido Dopo Però Lasciatevelo dire Non si riesce ad allenare Di Maria È veramente una chiavica Stai zitto Almeno finché non si evoge Stai Cazzo zitto Walter Che si chiama Terro Se non ricordo Lui è un Glygar infame Non si può prendere sul serio Uno che si chiama Terro Ciao Terro Mega assorbimento Potresti fare pugno rapido Lo sai Non è roccia Non sarebbe male Sì È già roccia Forse anche buia A bomba Sandslash Sandslash anche devi diffidare Da questo Losco Ah Perché io ti dico Perché io ti dico Vai a curarti Siamo Rimasti Con parassi seme Tentiamo la strategia Almeno vai a fargli La strategia Ti conviene fare Il piccione Botti in testa almeno Bastardo Almeno C'è la possibilità che te intendi Eccolo Chiamata Però quando finirà Botti in testa Saremo nella merda Più totale Onix E con Onix Puoi andare solo di pugno rapido Però ti farei mettere Un parassi seme Anche a Onix Un parassi seme Pure ad Onix Non serve A Stilix A lui Stilix forse si A lui non mettiamo Il parassi seme Oh Fallito No 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 Non può Perché non può Non lo so Tu fai di pugno rapido Non può Neanche pugno rapido Non fa niente Come Ci troviamo di fronte A un pokemon Che si fa di steroid Guarda quanta vita No gli tolgo Non ha senso questa cosa Io direi che Era un Io direi che Non abbiamo Merda Non abbiamo le funzioni Pugno rapido A bere Ci penserà Di Maria Che cosa possiamo utilizzare Addormento Eh Baccacetro Random Canto Oh attenzione Di Maria Si dà Spettacolo Si e poi Impercettibile danno Attenzione però Io lo addormenterei E cambierei i pokemon Minchè i danni In voglio di Maria Si magari lo addormentai Di prima Jerome Ok Magnitudo Buono Ma cos'è Ma sono esatti No no Semplicemente Tutto No no Tutta sta difesa Tutto pompati No hai ragione Tutta tanta difesa Si alla fine Per insere divertenti Adormentalo Canto Ma dai Ma uno si fa un mazzo tanto Cioè Cos'è Dobbiamo prenderci Qualche pokemon D'acqua Per affrontarlo Perché guarda Guardalo Sono steroidi questi Ah già Anch'io che uso Tuono onda Non è fede Giustamente Stavo scherzando Figura di merda Stavo Scherzando Ok Hai capito Che hai preso Un po' sotto gamba La faccenda Stavo scherzando Che poi secondo me Sei pompato Ho fatto un rafforzatore Basta Despermiamoci E alleniamo Intanto Mi sento troppo Dario Moccio Che ci guarda Registrare Sai che Dario C'è sempre quelli davanti Che lo guardano Io direi Cerca un po' che non d'acqua Sai cosa facciamo? Tagliamo la parte Diciamo Ma il capiterremo Non c'è più Quindi E poi Magari Io pubblico la parte Così magari Bega Bishop Ci dice cosa fare E' vero E' vero che basterebbe Resettare E salvare Quando siamo là Sì Quindi è meglio Se lasciamo perdere Facciamo due parti Un'altra Appunto Ma questa La pubblico Abbiamo fatto una figura Di merda Però va bene Che dai Voi Tanto poi Alla prossima Prendiamo Già Allora Un save Me lo faccio qui In due Ok E l'altro salvi normale Ora O no E no Uno è qui Spengo Resetto Così mi prende Il salvataggio ormai Che era prima Giusto? Va bene Va bene Beh Perché non ce l'ho Il file di prima Di salvataggio Aspetta Facciamo per ok Arriviamo lì Sì Ma noi ci riproviamo In perterriti E andiamo di nuovo Dal capitano Il capitano nessuno E' stata abbandonata La barca Dove cazzo andiamo? Ma ovvero capitano Non abbandona mai la nave Evidentemente Il capremo Non diceva la verità Qualcosa di losco Legge su di lui Quanti misteri Ci sono su quest'isola Che non è un'isola Lost Via Domus Che cosa sto dicendo? Scusi a parte Siamo bloccati Siamo bloccati Perché ci sono bug Incredibili Che il capitano Remo Non c'è più Non possiamo andare Alla città di prima Ad acquavalle Quindi Penso che Resetteremo Visto che non abbiamo salvato Megabishelp Se sai Se sai un magheggio Per risolvere questo Questo glitch Diccelo Però se no Noi possiamo anche resettare E tornare indietro Però per non perdere i dati Dei pokemon Faremo volentieri questo Nonostante la figura di merda Quindi se la parte vi è piaciuta Mezza parte Esatto Se la parte vi è piaciuta Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E io vi saluto Ciao Ciao Basta Spengo perché Oh che merda Ciao